Perché la Chiesa possa abitere e possa eventualmente compiere la sua missione. La perseveranza dunque non è una tra le virtù del cristiano, è la virtù del cristiano. Quindi, proviamo adesso brevemente a occhieggiare dove noi troviamo questa perseveranza. E io vi ho messo in breve, dalla linea 50 alla linea 55, i concetti che noi troviamo in questi passi. Allora, capitolo primo, versetto 14, erano perseveranti, questo primo gruppo di cristiani, nella preghiera. E dice che erano sempre con Maria. Il secondo brano è il nostro. Il terzo brano, alla linea 52, erano perseveranti al Tempio. Per la comunità della Chiesa nascente, il Tempio era un punto di riferimento, perché tenete presente che la Chiesa nascente non si sente una cosa estranea all'ebraismo. La Chiesa ha la consapevolezza di essere il resto di Israele, cioè quella piccola parte del popolo ebraico che rimane fedele a Dio fino in fondo. Paolo lo dirà nella lettera dei Romani quando tratterà il problema del perché la grande massa degli ebrei non si è convertita. E tra le risposte che dà, se queste perteniamo presente, dice che la Chiesa è ebrea. E la Chiesa è e il resto di Israele. Cioè, quel gruppo piccolo che rappresenta la vera discendenza di Abramo. tuttavia, Paolo dice, siccome Dio non manca mai la sua parola, anche la massa degli ebrei prima o dopo si convertirà. E fa un ragionamento che fa saltare tutte le previsioni del 2012. perché dice, se il rifiuto della grande massa degli ebrei, se il rifiuto di Gesù Cristo ha prodotto la salvezza per tutti, prima della fine del mondo si convertiranno. Ma, se la loro azione cattiva e il rifiuto ha prodotto una cosa così grande, quanto deve essere stupendo ciò che provocherà la loro conversione? Per il momento non ci sono segni di conversione. E quindi la fine del mondo tenetevi le imprese. Se seguiamo Paolo, dobbiamo fare questo ragionamento. Bene. Erano perseveranti, dunque, al Tempio. C'è questo legame con la religione ebraica e c'è dunque questa perseveranza di non rompere, di non staccare, di non dividere l'umanità. E poi c'era, ovviamente, la perseveranza nella mensa comune. Mensa comune non significa l'Eucaristia. Significa proprio mangiare insieme. Avevano messo tutto in comune e tenevano tutto in comune. E quindi anche la pentola. Avevano istituito una specie di vita conventuale o monastica prima dell'ore. Alla fine, nel 53, il nostro amico Pietro, quando gli si presenta proprio il problema delle vedove e degli elenisti, dice che loro, gli apostoli, devono rimanere perseveranti nella preghiera e nel servizio della parola. al capitolo ottavo c'è un certo Simone che viene convertito e lui rimane perseverante con Filippo, cioè lo segue. si tratta di una sequela di servizio, ma anche di una sequela di imitazione, il famoso discepolo con il maestro. Al capitolo 10, invece, si parla di due servi e di un soldato che sono perseveranti con il loro capo, che è Cornelio. In questo caso il perseverante è il fedele. Allora noi ci chiediamo cosa vuol dire adesso perseverante? Il concetto di insieme lo comprendiamo. Ma qual è l'oggetto della perseveranza? La preghiera? La didache, la frazione del pane, la comunione? Il rimanere in dialogo con tutti? Avere una comunione tra di noi? Servire la parola? E seguire un maestro. E' chiaro? Quindi la perseveranza non è un concetto astratto che possiamo applicare dove, quando vogliamo. Se noi leggiamo questi dieci, questi primi dieci capitoli, notiamo che la perseveranza ha degli obiettivi ben precisi. Tutto il resto è lasciato alla maturità della persona. Ma su alcune cose la perseveranza la perseveranza è mantenuta. Se non c'è questa perseveranza, in quella comunità cessa la vita comunitaria, cessa la fede. Se voi notate, non si parla di perseveranza nella fede, ma si parla di perseveranza nella preghiera, si parla di perseveranza nella fede, nella comunione, nell'eucaristia, nel dialogo, nello stare insieme, nel servizio della parola e nella sequela di un maestro di spirito. Una volta si diceva, il padre spirituale. Io ho sempre qualche perplessità sul vocabolario, perché chi ha un padre spirituale non diventa mai adulto, è sempre figlio. Chiamatelo accompagnatore spirituale, forse meglio. Per un punto di riferimento è necessario. Perché guardate che da soli, molto spesso, si prendono decisioni accomodativi e per la propria vita. Mentre uno dall'esterno ti dice, no, guarda, tu stai scegliendo in una forma di compromesso che non ti fa bene. Uno dall'esterno questo te lo può dire, tu non te lo dirai mai. Bene, abbiamo visto che cos'è più o meno il perseverare e su quali sono gli obiettivi della perseveranza. Vediamo adesso per tanti che cosa significa la vita che è comunione, la propria vita del pane e preghiere. Nella chiesa nascente c'erano due modi per presentare il Vangelo. C'era il terigma e c'era la vita che. Il terigma è l'annuncio a coloro che non sono cristiani, è il primo annuncio. Quanti tipi di annuncio noi conosciamo? Due. E sono due tipi perché due sono le culture in cui questo annuncio viene fatto. C'è l'annuncio fatto agli ebrei, il terigma ebraico è molto ben preciso. Il punto di partenza sono le scritture, le profezie delle scritture e il punto di arrivo è la persona di Cristo nel quale queste scritture si sono verificate, avevano impiute. Ma se voi leggete il capitolo 17 degli Adi degli Apostoli, voi avete il terigma per i pagani. Questo terigma per i pagani è un terigma dove la Bibbia non esce in cuore. Paolo, adattente nel discorso dell'Areopago, si rifà alla cultura greca, soprattutto a quella cultura diffusiva tipica del suo tempo e quindi legata alla filosofia storica, alla filosofia cinica, alla filosofia epicurea. E lui, che conosce molto bene queste correnti di pensiero, perché ricordiamoci che la formazione fra virgolette umanistica di Paolo è stata fatta a Tarso e Tarso era una delle città dell'impero più culturate del primo secolo. E in questo capitolo 17 voi vedete come Paolo rifacendosi sia la cultura filosofica sia la poesia greca che cita addirittura un verso che noi non conosceremo altrimenti che è un verso del poeta Arato. Attraverso questa cultura Paolo dice, guardate, che anche l'umanità è in attesa di questo Gesù Cristo. Anzi, addirittura, non lo nomina neppure, non dice neanche no. Dice in attesa di questo uomo, il quale, dopo morto, è stato risuscitato. E il saggio dell'area Opa lo dice che ascolteremo un'altra volta. Proprio una risposta estremamente rotonda, come dire, ma va là, sono pure fantasie. la chiesa in Grecia, ad Atene, inizia così. Con un rifiuto iniziale, poi invece avremo ad Atene una grossissima comunità, non fondata in epoca paolina, ma successiva. questo dunque è il Kerikman, è il primo annuncio, è dire, hai visto, hai risolto. E lo dici, non in maniera così cruda come l'ho detta io adesso, ma servendoti delle strutture culturali dei tuoi destinatari. Questo è un dato molto importante. Perché? Perché il Kerikman non è un annuncio brutale, ma è un annuncio mediato. La chiesa ha sempre avuto questo criterio della mediazione culturale. Il principio non si discute, ma si media. In quest'ultimo fangente storico, questi ultimi decenni, purtroppo, è mancata quest'ultima parte della mediazione. Per cui voi sentite molto spesso come i documenti pontifici che sono ricchi di saggezza e di teologia, oltre che di magistero, si rilisce, vengono presi e scaraventati sulle spalle dei fedeli così nudi e crudi come sono usciti dalla bocca del ponterecce. E questa è una funzione. perché occorre sempre la mediazione. Quando il Papa scrive mica ha presente la vita di ciascuno di noi, che è estremamente complessa già per noi, che noi siamo protagonisti. Figuriamoci se dobbiamo spiegarla ad un altro. e questo qui scrive per oltre un miliardo di cristiani, perché non scrive solo per i cattolici. E noi pensiamo che lui debba necessariamente tenere presente il problema di tutti, tanto che si può prendere le sue parole e passarle immediatamente nella coscienza dell'individuo. No, non è così. Riacquistare il senso della mediazione non significa svilire o sminuire le parole del Magistero, ma significa incarnarle. E ricordiamoci che il cristianesimo per natura sua segue la dottrina dell'incarnazione. Noi non lo faremo perché tempo non c'è, ma se dovessimo fare un corso di storia della liturgia primitiva noi scopriremo delle cose estremamente interessanti. noi ormai siamo tutti abituati al rito romano, ma se andate a Milano guardate che c'è il rito ambrosiano e vi trovate spiazzati con la montagna di Chiri e Lenso che vi sparano a ogni secondo questi fedeli che sono cattolici come noi. Noi tutti abbiamo in Italia il rito romano, abbiamo il rito ambrosiano a Milano, a Diocesi di Milano, e poi abbiamo il rito greco-ortodosso, a Rota Ferrata, piena degli albanesi. Ma pensate per esempio come nel VI-VII secolo d.C. noi avevamo qui il rito patriarchiva o aquilegiense che arrivava ricordate dell'Ufino a Monza. Poi c'era una fascia stretta di rito ambrosiano e poi nel Piemonte c'era il cosiddetto rito della Valle d'Aosta o rito valdostano. Al centro Italia c'era il rito centrale e la parte sud aveva il rito benedettano mentre la parte tirrenica centro-sud aveva il rito di Capo o rito napoletano. Rito napoletano, benedettano, romano, ravernate, aquilegiense, ambrosiano valdostano. Si rendete conto che un eschimese quando celebra la Pasqua e legge la liturgia delle ore non può mettere in relazione la risurrezione di Cristo con l'esplodere della natura. Il rito romano sì, ma c'è freddo c'è ghiaccio e questo non lo può fare neanche un sudamericano perché in epoca di Pasqua siamo in autunno e non è in primavera. Noi sottovalutiamo molto la inculturazione ma è male. La Chiesa Nascente l'inculturazione l'ha osservato avviutissimo ed è proprio nel rispetto della cultura di un popolo che il cristianesimo può essere proposto. Se ricordate il miracolo o il mistero chiamatelo come vi pare della Pentecoste ognuno sente nella propria lingua nativa. Ciò che vale per il Gerritmer vale per la vita che la vita che è l'annuncio di Cristo a chi è già cristiano. e quindi la vita che non è altro che un approfondimento della fede per capire come poter vivere in una determinata situazione culturale sociale e politica. E allora voi avete certe trasformazioni del Vangelo. Matteo che scrive l'Antiochia e scrive per gli ebrei convertiti al cristianesimo che siano ebraico-cristiani o l'ernistico-cristiano in poco conta la Torà è per tutti i due uguale. E allora dice che un uomo non può ripudere la propria moglie se no commette l'Useglie appunto fino della trasmissione. Ma quando Marco a Roma scrive il suo Vangelo non può scrivere così deve inculturare il cristianesimo e siccome a Roma anche la donna poteva divorziare dal marito Marco infila la seconda frase che Gesù materialmente non ha mai detto e se la donna riprude il proprio marito commette ad ulteriori. La didache dunque non è un approfondimento disincarnato la didache è un approfondimento che incarna ma in una cultura in una cultura il bacio ieri parlavo con il professor Goi di alcuni problemi inerenti la fede e zone circondicine adesso e giustamente lui mi faceva notare faceva notare a me a un gruppo di studenti come il pensiero astratto della fede ha rischi di essere controproducente dice noi abbiamo bisogno di vedere la fede anche nella sua concretenza estetica e quindi l'arte è una cosa molto seria per la fede lui stava rappresentando ovviamente il museo del Cesaro lui parlava così perché naturalmente aveva un interesse immediato da presentare a questi nostri studenti ma io contemporaneamente facevo un altro tipo di ragionamento di coraggio perché nella storia della chiesa chi ha fatto grande di da che sono i grandi santi i quali non hanno astratto la fede l'hanno fatta diventare concetto l'hanno fatta diventare vita e hanno creato seguaci francescani domenicani benedettivi gesuiti salesiani tutto quello che mi pare esiste dunque bisogno di una concretizzazione della fede e questa la fa la didache che può essere una didache concettuale una didache comportamentale una didache estetica ci sono tante forme di didache noi nel testo biblico abbiamo una didache biblica cioè è una rilettura della vita fatta attraverso la figura di Gesù con una mentalità ebraica o con una mentalità greca questa è la didache quindi molto più complessa la faccenda di quello che possiamo pensare come veniva fatta la didache siamo la linea in 59 poi meritiamo un po' di caffè perché l'ambiente è proprio freddo vuol dire che se continuano a trattarci così emigreremo da qualche altro beh insomma un po' di caldo lo potrebbero anche dare ma non è questione di versare è questione che si dimenticano perché il gasolio c'è ci mancherebbe si dimenticano accendono la sera prima mentre l'ambiente l'ha riscaldato almeno due giorni prima noi siamo forti poi andiamo fuori naso rosso tarnuti pioggerellina va bene sì ma decisamente seminario quando ero ragazzino dovevano pagare i debiti avevamo 14 gradi quindi figuriamoci come veniva fatta questa didache io ho cercato di farvi due piccoli esempi allora se voi ricordate l'episodio di Gesù bambino perso al tempio è interessante perché dice che il bambino interrogava i maestri che bravo questo qua è la riscossa di tutti gli studenti i professori sono professori che imperavano i ragazzi invece qua è il ragazzo che impera i professori non era normale la lezione di un rabbino non incominciava mai con il silenzio della classe e le parole del rabbino ma iniziava con l'ira di Dio della classe perché i ragazzini mettevano le domande e il rabbino raccoglieva e rispondeva l'intelligenza del rabbino era quella di cucire insieme le varie domande e farle diventare una o due domande soltanto questo è stato sempre lo stile della chiesa provate solo a pensare a un fatto riducico molto a casa come si chiama la prima preghiera della messa si inizia la messa c'è la richiesta di perdono c'è gloria a Dio nell'alto dei sieli e poi c'è quella preghiera come si chiama quella preghiera perché si chiama colletta colletta è il principio di colligere raccogliere perché la preghiera dei fedeli che noi facciamo dopo la predica nella chiesa nascente veniva fatta qui e il preghiera ascoltava molto bene le intenzioni che i fedeli manifestavano e poi faceva la raccolta e inventava seduta stante una preghiera che raccogliesse le intenzioni di tutti capite quanto è importante essere fedeli cioè membri del popolo di Dio poi i preti sono diventati ignoranti quindi dicevano beccanotti e stupidaggini come molti ancora oggi presuntuosi che pensano di inventare un testo seduta stante e i vescovi africani per primi hanno detto basta alla fine del quarto secolo hanno iniziato ad obbligare anche i vescovi a scrivere i testi e da quella volta la colletta non ha raccolto più niente è rimasta preghiera fissa mi spiego preghiera dei fedeli l'hanno spostata all'offertorio quella continuava a tomarsi colletta ma non colligeva proprio non per niente questa capacità di raccogliere e far diventare una preghiera sola era la stessa mentalità che si adoperava a scuola l'uditorio poneva domande e il rabbino raccoglieva e poi faceva la lezione naturalmente sempre dialogata noi oggi affronteremo un testo biblico e il testo che affronteremo è la linea la linea 89 dove troviamo una di quelle traduzioni che sono classiche di chi conosce il Nuovo Testamento ma non conosce l'ambiente ebraico del Nuovo Testamento e allora la linea 90 voi trovate la traduzione poiché doveva partire il giorno dopo produngo la conversazione il verbo è dialego e non è la conversazione perché la conversazione sono io di parlo nel dialogo siamo tutti due che parliamo e il testo greco è chiarissimo di elego viene dal dialego che è il verbo del dialogo che è il verbo della dilacione sono le dieci e mezza appunto andiamo a bagnare il becco un momentino di parlo di parlo di parlo Grazie.